Musica Pensioni a rischio, l'accorpamento dei vari istituti di previdenza nella Super-Inps ha portato perdite, miliardarie, inquilini delle popolari, la socialità di quartiere per risolvere i problemi abitativi. Difesa dell'autodromo, mentre avanza l'inchiesta della Procura di Monza, si delineano i punti della difesa. Mercato bio in regione, una filiera a chilometri zero, non solo con bancarelle, in piazza città di Lombardia. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro notiziario, che apriamo con il servizio che riguarda il disavanzo del Super-Inps, secondo quanto emerge dalla stima contenuta dal bilancio preventivo di quest'anno, è destinato a salire e a sfiorare i 7 miliardi di euro sia nel 2013 che nel 2014. Ma vediamo i dettagli in questo servizio. Il bilancio preventivo del 2012 dell'Istituto di Previdenza, ovvero il primo documento riassuntivo della cosiddetta Super-Inps, i contenuti sono stati approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Il testo dice che l'incidenza della spesa per prestazioni previdenziali e assistenziali sul PIL si attesta al 19,22%. La gestione finanziaria di competenza dell'Inps con l'incorporazione dell'ex-Inpdap e dell'ex-Inpas, infatti, segnerà un disavanzo di quasi 6 miliardi di euro nel 2012, a causa del rosso che lo stesso Inpdap porta con sé. Il disavanzo, secondo quanto emerge dalla stima contenuta sul bilancio preventivo di quest'anno, è destinato a salire e a sfiorare i 7 miliardi di euro sia nel 2013 che nel 2014. Nel documento si rileva inoltre che tale disavanzo è quasi totalmente ascrivibile alla gestione nel trattamento pensionistico del personale degli enti locali, imputabile per la maggior parte al blocco del turnover che ha impedito agli enti locali di assumere personale nel caso in cui non veniva rispettato il patto di stabilità. Secondo i sindacalisti della UIL, con l'incorporazione, decisa con una certa leggerezza perché non sono state adeguatamente ponderate le normative eterogenee dei due istituti, si sono prodotti effetti disastrosi per la situazione patrimoniale dell'Inps, con una riduzione di quasi 5 miliardi di euro. Parliamo ora di un servizio che riguarda lo sviluppo di interventi abitativi basati sulla socialità costituita dai comitati di Milano e dalle istituzioni locali come il Comune. Servizio. Un momento di discussione e dibattito per rendere noto le soluzioni per le problematiche dei quartieri milanesi. E' questo l'obiettivo della giornata dei comitati degli inquilini. Ogni comitato deve ricevere, deve avere uno spazio e non bisogna chiedergli soldi perché il problema è che spesso si offrono, si danno la disponibilità degli spazi sugli affitti e poi gli si chiedono 2.500 euro di spese. Per questo dico è prioritario per l'amministrazione dall'ascolto passare ai fatti e i fatti sono strumenti reali perché i comitati possano lavorare, crescere e migliorarsi nelle loro attività. E' il riconoscimento dell'amministrazione di quello che fanno, quindi credibilità. I problemi come sappiamo sono tantissimi, le risorse purtroppo sono sempre di meno e allora dalla collaborazione, dalla partecipazione diretta, il coinvolgimento degli inquilini è importante avere anche delle novità, della fantasia, delle risorse anche di tipo operativo, pragmatico per risolvere i problemi, come ad esempio le autogestioni. L'autogestione dei servizi serve anche a questo. Sotto l'amministrazione pubblica è possibile creare l'autogestione dei servizi in modo tale da evitare appalti pubblici che spesso sono minaccia di appaltatori che hanno pochi scrupoli e vengono soltanto per fare una speculazione. Ecco, in questi casi la partecipazione e il coinvolgimento degli inquilini serve a dare maggiore trasparenza e un'economicità dei servizi. Il dibattito servirà al Comune di Milano per rascoltare direttamente dai cittadini l'esigenza e i bisogni necessari per il miglioramento dell'attività sul territorio. Ci si mette tutti nella stessa ottica, che è quella del bene comune, che è quella della riqualificazione dei quartieri, che è quella di un lavoro in collaborazione col comune. In collaborazione col comune significa che il comune non cala nulla dall'altro, il comune ascolta e fa emergere le migliori energie che ci sono nei quartieri popolari di Milano e ci sono queste energie e lavoriamo tutti quanti insieme a cominciare dalle piccole manutenzioni a finire alla ricostruzione anche sociale della vita del quartiere, al riappropriarsi di luoghi di socialità. Stiamo dando adesso ai comitati inquilini degli spazi gratuiti con le spese a carico del comune, quindi stiamo veramente mettendo a disposizione uno spazio e dei luoghi per lavorare insieme. Prosegue l'inchiesta relativa alle negligenze dell'asfalto e delle curve dell'autodromo di Monza. Non solo la procura ma anche le difese si fanno sentire, ecco come in questo servizio. Enrico Ferrari, direttore dell'autodromo nazionale di Monza, non ci sta a passare per quello che ha nascosto ai piloti della superbike la presunta pericolosità della pista e si difende affermando che, alle poche parole spese al telefono con l'ingegner Giorgio Beghella Bartoli, direttore tecnico della pista e intercettate dalla procura di Monza, sono seguite riunioni nelle quali è stata presa la decisione di fare intervenire immediatamente gli esperti della CIC, azienda che nel luglio del 2011 ha asfaltato il tratto di pista che va dalla variante Ascari alla fine della parabolica. Le due irregolarità sono state scoperte giovedì 3 maggio intorno alle 19 della sera e venerdì mattina, il giorno dopo, è stata fatta l'ispezione sulla pista con l'esperto della società CIC, dalla quale è emerso che le anomalie erano ininfluenti e non avrebbero compromesso la sicurezza dei piloti. Per questo motivo, secondo il dottore Enrico Ferrari, non si è ritenuto di avvisare gli addetti ai lavori. Inoltre, il direttore dell'autodromo tiene a sottolineare che i piccoli crateri evidenziati erano due, quasi invisibili ad occhio nudo, e non 50, come sostenuto nella conferenza stampa dal dottor Guaita Macchi. Il numero a cui fa riferimento il presidente della Sias è quello che si è venuto a creare dopo gli interventi di perforazione della pista in più punti della parabolica, per evidenziare meglio il fenomeno. Il lunedì successivo alla manifestazione sono stati effettuati i primi carotaggi dell'asfalto ed era già stato deciso di intervenire con i lavori necessari. In tempo di saldi i commercianti pensano, studiano a delle iniziative per non verificare i loro sforzi. In questo servizio ci concentriamo sui commercianti di Pavia che hanno istituito lo shopping notturno. Fare shopping sotto le stelle è un'idea alternativa che il comune di Pavia ha lanciato in modo da incentivare le vendite durante il periodo dei saldi. Il primo esperimento è stato sabato 7 luglio, quando i negozi sono rimasti aperti fino a circa mezzanotte, accogliendo un numero inatteso di persone che per l'occasione si sono recate in centro a Pavia per approfittare di questo orario serale e fare qualche acquisto. Le opinioni dei commercianti sullo shopping a notturno sono diverse. Molti sono soddisfatti dell'evento che ha permesso di vendere più merce, altri invece si dicono non contenti non avendo riscontrato un incremento di consumi. È muta giù tantissima gente, non solo i pavesi ma anche Castel San Giovanni, Brodi, Stradella, a Piacenza c'è stato un vero flusso. C'è stato un momento che non sapevamo più dove sbatterla a testa perché c'era tantissima gente anche dentro il negozio e anche in strada. E questa gente ha comprato? Ha comprato, sì. Devo dire che hanno comprato quello che hanno visto e compravano. Praticamente se la percentuale è su 10, 6 o 7 hanno comprato quello che piaceva. Sì, è andato bene dal punto di vista commerciale perché oltre all'affluenza anche le vendite sono state buone e siamo contenti, molto contenti. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo tenuto aperto fino a dopo mezzanotte, circa l'una più o meno. È andata bene, è stata una bella festa. Quindi siete stati soddisfatti anche per le vendite? Sì, sì. Abbiamo incrementato notevolmente rispetto al sabato equivalente dell'anno scorso perché la notte ha dato un input maggiore. Abbiamo effettivamente lavorato e venduto. No, non siamo soddisfatti. Abbiamo venduto molto meno di quello che era previsto e non c'è gente assolutamente in giro. Né di giorno, tanto meno di sera, però noi la sera eravamo chiusi e quindi sappiamo che c'era tanta gente ma che hanno venduto molto poco. L'agricoltura lombarda in piazza per far vedere il meglio dei prodotti. All'ombra del nuovo grattacielo della regione Lombardia c'è la fila di bancarelle per la vendita diretta come nei mercati dei contadini. Servizio. La formagella che sa di latte, il salame di puro suino, senza conservanti, albicocche ed altri tempi, vino e olio dal gusto nostrano, yogurt naturale. Profumo di campagna e sapori autentici in piazza città di Lombardia perché i prodotti del mercatino bio sono venduti direttamente dall'azienda agricola che li produce. Sono a chilometro zero capaci di attrarre per qualità e bontà anche il milanese abituato ai grandi centri commerciali. Una marmellata di fragole, una pasta con la valorazione artigianale, poi dei formaggi e poi dei frutti di bosco che sono belli. Noi siamo di campagna e portiamo i nostri sapori e anche i nostri colori in una città comunque in una metropoli. La gente che produce direttamente quindi siamo anche comodi noi per acquistarlo e quindi il valore diventa doppio insomma, una produzione sicura e un acquisto facile. È un'esperienza interessante e che dovrebbe essere ripetuta, fatta abbastanza frequentemente anche perché poi il luogo è proprio ideale, ci sono migliaia di persone che lavorano e quindi possono conciliare il lavoro senza dover tripolare alla sera per andare a cercare un negozio. Anche il presidente Formigoni è sceso al mercato. Insieme al mercatino sono stati proposti anche gli orti in vaso, una pratica sempre più adottata per coltivare sul balcone di casa pomodori, cipolle, zucchine, basilico, menta e tutto ciò che può offrire in proporzioni ridotte un orticello. Un buon sistema per risparmiare sulla spesa ma anche per una sana educazione agricola e alimentare. Noi stiamo cercando di far capire che l'agricoltura non è solo produzione ma è anche cultura, ma è anche divulgazione e allora vogliamo raccontare facendo vedere delle coltivazioni in vaso come si può coltivare l'orto sui nostri terrazzi e sui nostri balconi. Prodotti più freschi, filiera accorciata, quindi prezzi più convenienti. Sono queste le parole chiave dell'iniziativa promossa dalle associazioni di categoria e da Regione Lombardia per sostenere in questo momento di crisi un comparto che eccelle grazie al lavoro e alla passione degli agricoltori. Il significato è una continuazione di alcune azioni che stiamo facendo negli ultimi anni ma in cui si è sempre contraddistinta Regione Lombardia di far conoscere di più e meglio quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Poi possiamo attribuirgli qualsiasi tipo di slogan, chilometro zero, filiera corta, l'importante è che siano i nostri prodotti che vengono messi in prima evidenza. Pomeriggio musicale all'auditorium della Regione Lombardia. Giovani allievi del conservatorio sono esibiti in brani pop e hanno incontrato il famoso paroliere Giulio Rapetti, meglio conosciuto come Mogol. Vediamo. Concerto pop in regione con canzoni italiane e internazionali di successo in chiave rivisitata ma anche tanti brani inediti. Grande entusiasmo e emozioni forti per l'esibizione di 50 giovani talenti, protagonisti dello spettacolo musicale che si è tenuto all'auditorium di Palazzo Lombardia, evento conclusivo del progetto Residenzialità, iniziativa sperimentale dedicata al sostegno e alla valorizzazione dei giovani promossa dalla Regione unitamente ai conservatori lombardi e al CET, l'associazione fondata e diretta dal maestro Mogol per la formazione professionale di interpreti musicali. Per la prima volta i conservatori aprono al pop e questo lo dobbiamo la Regione Lombardia che ha fatto questo sforzo economico per 50 ragazzi dei conservatori che sono approdati al CET che è un centro di eccellenza universitario, una scuola importante in Europa e che praticamente insegna il pop. Quindi i conservatori in questo senso i ragazzi hanno avuto la possibilità di ampiare la loro cultura, non solo classica ma anche pop. L'esperienza che abbiamo vissuto al CET è stata una bellissima esperienza, molto educativa anche dal punto di vista umano, siamo cresciuti tanto. Sono state tre settimane fantastiche dove ogni giorno facevamo musica e questa cosa mi ha rallegrato tutta la mia vita. La prima volta che mi approccio alla musica pop è perché studio canto lirico da diversi anni e è stata un'esperienza bellissima che ripeterei domani. Ai ragazzi alla fine della manifestazione sono stati consegnati gli artistati di frequenza. I ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza sono ragazzi che vengono dai conservatori quindi hanno una formazione musicale molto solida ma hanno potuto incontrare attraverso questo incontro eccezionale la figura di Mogol con il quale hanno incontrato una musica che parla, che parla, che parla di sentimenti, che parla di sensazioni, che parla di poesia e crediamo che questo sia stato per loro un bellissimo riscontro. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, vi ringrazio della vostra cortesa attenzione e arrivederci.